Debutto omaro per l'Assigieco Basket Piacenza nella prima giornata del Girone Est di Serie A2 di Pallacanestro. La squadra dei coach Ceccarelli si è arresa al cospetto di Mantova che ha espugnato il Palabanca con il punteggio di 81-66. Virgiliani letteralmente trascinati dai 20 punti messi a segno da un immarcabile Rottney Clark, doppia-doppia anche per Kenny Lawson mentre all'Assigieco non sono bastati i 19 punti di Marco Santiangeli. Una partita caratterizzata dalle pessime percentuali al tiro dei bianco-rosso-blu, specie nell'arco dei tre punti con un 7 su 25 che ha sicuramente condizionato tutta la gara dell'Assigieco che nonostante un paio di ottime fiammate non è mai riuscita a riaprire definitivamente la partita. Tra le note negative anche l'infortunio occorso ad Endi Ogide, uscito malconcio da un contrasto di gioco e rientrato in panchina con una vistosa fasciatura. Le sue condizioni verranno valutate nei prossimi giorni. I piacentini tenteranno il riscatto domenica prossima quando affronteranno Montegranaro ieri vincente su Imola.